E' lì? E' lì? Guarda, l'ultimo fungo del 2014, è lì, è qui, dove guardi? L'ultimo fungo, 2 novembre 2014, pensavo di aver chiuso ieri la giornata, il primo novembre, neanche un fungo l'ho trovato, stavolta però la costanza e il non si molla mai, però stavolta c'è la molla davvero, 2 novembre, questi credo siano gli ultimi della stagione magra, magra! Belli dovrebbero essere, pochi, ma belli, nei faggi, gli ultimi nel 2014, eccoli, credo e poi ce n'è un altro, ve lo comunico, ma qui l'ultima mangiata ce la faccio!